Il Porto Sicuro è l'orto dove ci troviamo ora, un orto che l'Associazione Culturale AXIS da tre anni sta coltivando all'interno del Parco delle Cave. Al porto si fanno diverse attività che partono dall'educazione ambientale, passeggiate nella natura visto che c'è il Parco delle Cave vicino, al riconoscimento delle piante dell'orto, anche a attività di falegnameria, piccola falegnameria con tutti i bambini di diversa età, dalla prima elementare alle medie. Il Porto Sicuro non accoglie solo attività di orticoltura ma godiamo di una serie di spazi, di prati qui circostanti, sempre all'interno delle aree orti, nelle quali possiamo fare diverse attività per cui accogliamo volentieri le scolaresche, i centri estivi o le stesse famiglie che vengono, come nel caso della Civil Week, a fare anche dei giochi yoga. Questo è molto importante, cominciare con i bambini, proprio dargli degli strumenti per mettersi in ascolto con il mondo esterno, aprire i propri recettori, aprire la propria capacità di ascoltarsi e ascoltare. Diffondere, divulgare un messaggio di sostenibilità, soprattutto ai più giovani, è una delle attività in cui ci identifichiamo di più, è una delle attività che ci piace maggiormente fare. Noi, EICOM, come operatore del mercato libero dell'energia, sentiamo ancora di più il dovere e la responsabilità, oltre che naturalmente il piacere, di essere presenti in questo tipo di iniziative che ci permettono proprio di diventare testimoni e divulgatori di atteggiamenti positivi, di esperienze positive, come possono essere quelle di vivere la natura. Noi crediamo fermamente in questo tipo di attività, ci piace sostenerle e ci piace soprattutto partecipare. In questo modo noi possiamo viverle a pieno e possiamo raccontarle con la carica energetica più grande, più vera possibile. Grazie.